L'Unione Europea non riconosce alcuna legittimità ai referendum che si sono ottenuti nelle regioni separatiste dell'Ucraina orientale. Lo ha ribadito Herman Van Rompuy, il presidente del Consiglio europeo, in visita a Kiev. Per Van Rompuy la via per mettere fine alle tensioni è chiara. La tenuta di elezioni libere e corrette il 25 maggio sarà un passo importante per uscire dalla crisi. Chiedo a tutte le parti politiche di supportare pienamente questo processo. Non vi devono essere interferenze esterne, ha aggiunto riferendosi alla Russia, contro la quale Bruxelles ha deciso proprio nelle stesse ore di varare una nuova serie di sanzioni. Anche per il premier ucraino facente funzioni, a segni e a segno che le responsabilità di Mosca sono evidenti. La Russia deve smettere di appoggiare i terroristi e deve dire loro di deporre le armi e liberare gli edifici occupati. La Russia deve smettere di finanziarli, dopodiché tornerà la pace in Ucraina. Yatsenyuk, che ricambierà oggi la visita recandosi a Bruxelles con tutto il governo, ha menzionato anche un dialogo nazionale con tutte le parti del paese, un tavolo che dovrà discutere cinque punti fondamentali, comprese le riforme costituzionali, ha precisato. Le speranze per uscire dalla crisi ora sono rivolte principalmente alle elezioni presidenziali del 25 maggio, ribadisce la nostra corrispondente a Kiev. Nei prossimi giorni il governo ucraino si prepara a avviare un dialogo nazionale, anche con i rappresentanti dell'Est, sul decentramento e l'estensione dei poteri attribuiti alle regioni.